In occasione dell'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024, una delegazione di studenti napoletani di diversa nazionalità è stata ospite nella sala della giunta del comune di Napoli, a Palazzo San Giacomo, una giornata davvero memorabile. Per me la scuola è famiglia. La scuola per me è un'occasione per il mio futuro. La scuola è un luogo dove puoi apprendere a comunicare. E' un luogo dove puoi sentirti più sicuro. Per me la scuola è il posto dove posso frequentare i dorsi di bello, i percorsi di teatro e le attività sportive. Per me la scuola è un'opportunità di essere studioso. Per me la scuola è un'opportunità di essere studioso. Per me la scuola è legalità, conoscenza e rispetto del nostro territorio. Per me la scuola è imparare e studiare. Per me la scuola è un luogo dove imparo nuove cose. Per me la scuola è come una grande famiglia in cui si sta insieme e si impara con già l'allegria. Per me la scuola è mille gurure! Viva la scuola!